Allora, Amadeus, c'è una canzone di Baglioni, che la voglio interpretare, ma non mi dare i vuoti, non mi dare i vuoti, dice Così vai via, non scherzare, no, e ci lasci, ci lasci Sanremo, definitivamente, un pensiero? No, dopo cinque anni credo che sia giusto lasciare, l'ho detto prima ancora della prima puntata, prima ancora degli ascolti, insomma, eccetera, eccetera, è giusto perché poi bisogna andare avanti, bisogna trovare nuove idee, nuove, come dire, anche nuove sfide, poi in futuro chissà, Sanremo si ama, io dico, we love Sanremo e quindi è giusto però fermarsi perché bisogna ricaricarsi. Le canzoni prendono vita sul palco di Sanremo e poi sbocciano nelle radio, noi siamo nelle radio all'estero, la musica italiana è fondamentale, noi promuoviamo la musica italiana, quanto ancora c'è da fare e perché non vieni a presentare qualcosa anche tu a Londra? Beh, guarda, intanto la musica italiana, parlo di quella di Sanremo, è cambiata, tu sei qui da praticamente tutti i miei festival e quindi hai visto anche questo cambiamento, è più internazionale. Prima era la canzone italiana, no? Quasi un po' una sorta di melodia, esatto, la melodia, che è stata bellissima, che ci ha permesso di essere conosciuti nel mondo, quindi ben venga. Oggi non c'è solo la melodia, non che non ci sia più, diciamo non c'è solo la melodia, ma c'è anche un suono internazionale, ecco perché ora è esportabile all'estero anche una nuova generazione italiana. Ti faccio vedere una foto? Sì. Poi la mettiamo, guarda qua. Ah, questi siamo noi. Ti faccio vedere, eh? Siamo noi tanti, tanti. No, 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 io giuri, sì, sì. Ti ricordi il posto? Questo è Ibiza, Ibiza 1990, DJ Television, l'anno dei mondiali ed eravamo lì a fare appunto DJ. Che cosa diresti a loro? Cioè a quei due? E a quei due che erano grandi amici già allora e che avevano tanti sogni, beh, devo dire che entrambi li abbiamo realizzati, quindi l'augurio che faccio ai ragazzi di poter realizzare i propri sogni. Buon compleanno a London One Radio, ho promesso che sarei venuto a trovarvi e la promessa la manterrò, quindi speriamo in primavera o in estate di poter finalmente venire a Londra e lui mi fa da cicerone. Beh, sicuro, e lui mi fa da maestro in radio. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie a tutti